Vado a Cuba, vado a Cuba per lavoro pochi giorni e parto da Genova, passo per Parigi, il volo per Parigi è una garanzia da questo punto di vista, viaggio con Air France, non voglio fare pubblicità ma è come viaggerò. Vado a San Francisco oggi, io vado all'aeroporto di Genova via Parigi. Vado a Stoccolma via Parigi e poi da Parigi a Stoccolma. Bisognerebbe aggiungere forse qualche itinerario in più, in qualche città, qualche capitale europea in più, però tutto sommato stiamo secondo me andando nel senso giusto. Vivo all'estero, vivevo a Londra, quindi era la mia seconda casa all'aeroporto di Genova. Io non sono insoddisfatto del mio aeroporto, si potrebbe fare di più come in tutte le cose, ma credo che si sia fatto in questi ultimi anni un buon lavoro. Grazie.